Quando l'uomo ha bisogno di qualcosa, ragiona in termini di mercato, Dio invece di dono. La dimostrazione di questo opposto modo di procedere, l'uomo che pensa a comprare mentre Dio a dare, appare limpida nel miracolo della moltiplicazione dei pani narrato dal Vangelo della Domenica e commentato all'Angelus dal Papa. La folla che Cristo sfama, ha spiegato Francesco, anticipa il segno dell'Eucaristia, partecipando alla quale l'uomo entra nella logica di Gesù, la logica della gratuità, della condivisione. Gesù, ha affermato il Papa, sazia non solo la fame materiale, ma quella più profonda, la fame di senso della vita, la fame di Dio. Di fronte alla sofferenza, alla solitudine, alla povertà e alle difficoltà di tanta gente, che cosa possiamo fare noi? Lamentarsi non risolve niente, ma possiamo offrire quel poco che abbiamo, come quel ragazzo. Abbiamo certamente qualche ora di tempo, qualche talento, quale competenza. Chi di noi non ha i suoi cinque pani e due pesci? Tutti ne abbiamo. Se siamo disposti a metterle nelle mani del Signore, basteranno perché nel mondo ci sia un po' più di amore, di pace, di giustizia e, soprattutto, di gioia.